Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della CNC 3018 Pro. Come vi avevo anticipato nel mio canale sto inserendo le stampanti 3D, gli incisori laser e anche le CNC come questa 3018. Io sono le prime armi per quanto riguarda la CNC 3018 e ho deciso di fare questo video proprio per farvi capire quanto sia facile il suo utilizzo. Nonostante all'apparenza sembri uno strumento difficile da utilizzare, dopo due o tre giorni a studiare sul web alcuni tutorial ma anche guardando e studiando bene i vari programmi e software per poterlo utilizzare, mi sono reso conto che alla fine non è assolutamente così difficile. Basta semplicemente realizzare alcune immagini oppure acquisirle tramite programmi che ci permettono appunto di importare delle immagini e prepararle in automatico per essere incise e dopodiché il lavoro è fatto. Adesso diamo un'occhiata da vicino a questa CNC, guardiamo i componenti, ve ne parlerò molto velocemente. Ho intenzione di non fare un tutorial sul montaggio, semplicemente perché il web è già pieno di tutorial, quindi vi risparmio questo montaggio che di per sé comunque è semplicissimo. Basta unire la base, inserire le varie viti senza fine, dopodiché mettere i laterali e inserire il motore. Semplicissimo, ci sono le istruzioni ma ripeto ci sono altri tutorial. Quindi guardiamo com'è fatta, dopodiché guardiamo come si utilizza col computer e come si pratica l'incisione. Iniziamo. Questa è la versione 3018 Pro. Le differenze con la 3018 dovrebbero essere pochissime. Questa è semplicemente un upgrade rispetto al modello precedente. La trovate in vendita sia su Amazon che su tanti altri siti. Io l'ho presa sul sito TomTop. E in dotazione vengono date sia queste frese a coltello, che è un pennellino per poter togliere i vari trucioli man mano che si lavora, più delle chiavi per montare e smontare la pinza per la fresa, che va inserita nella parte in basso. Il pianetto misura 30 cm x 18 cm e da qui deriva il nome. La struttura è quasi tutta in metallo e bachelite. E poi c'è un cablaggio semplicissimo, per il quale non si può assolutamente sbagliare nel montaggio. Questo è il motore che fa ruotare la fresa, al quale è collegato il cablaggio. Come potete vedere, tutto il cablaggio, sia per quanto riguarda gli assi X, Y e Z, che per quanto riguarda il motorino, sono avvolti da questa guaina a spirale, che viene data pure in dotazione. Quindi ci permette di avere un cablaggio ordinato, senza avere fili in giro. E sulla parte posteriore, quindi, c'è il cervello della CNC, a cui va collegata l'alimentazione, il collegamento USB, perché va utilizzata collegata al computer. C'è anche la possibilità di comprare un modulo a parte, nel quale inserire una scheda SD, comunque poterla utilizzare anche scollegata dal computer. Ma in queste condizioni va utilizzata assolutamente, collegata con il cavo USB al nostro PC. E fin qui nulla di complicato. Adesso passiamo al software. Questo è il programma che si trova online. Possiamo decidere di utilizzare o il programma che viene dato in dotazione, quindi acquisendo dallo stesso alcuni file già esistenti, oppure utilizzare dei programmi che ci consentano di fare tutto, dalla realizzazione del file, alla comunicazione con la macchina, e quindi dare l'avvio poi all'incisione, dando pure vari parametri per quanto riguarda profondità, velocità di taglio, eccetera. Questo è un sito, il sito EASEL, che però è purtroppo a pagamento, anche se vi dà la possibilità di utilizzarlo per 30 giorni. Io ancora ho 22 giorni di utilizzo, perché questa CNC la possiedo a circa una settimana, e sto provando a fare i primi esperimenti. Già sono arrivato ad un livello, sicuramente molto base, però soddisfacente per le mie aspettative. Non pensavo di riuscire a ottenere alcuni risultati, che in realtà sto ottenendo più che altro sperimentando sullo stesso sito, che vi dà la possibilità ovviamente di aprire il sito quando siete online, ma poi se per esempio in garage, nel vostro laboratorio, non avete la connessione ad internet, non arriva il segnale wifi, potete utilizzarlo tranquillamente. Al momento siamo offline, e io posso utilizzare tranquillamente questo programma, dopo aver aperto questa finestra, anche se non sono connessa ad internet. Abbiamo diversi comandi, uno ci permette di inserire delle figure geometriche, un altro di tracciare delle linee, poi di scrivere, inserire dei simboli, eccetera. Io ho deciso di realizzare questa targhetta, da mettere nella camera dei miei figli, Alice e Andrea, scrivendo la cameretta di Alice e Andrea, inserendo pure due stelline, e un cuoricino al centro. Dopo aver inserito i vari elementi, abbiamo la possibilità anche di decidere, che profondità deve avere la fresata. Per esempio, per la scritta, io ho deciso che deve avere una profondità di un millimetro e sei, per quanto riguarda invece il cuore e le due stelline, avranno una profondità di due millimetri e due. Invece, il contorno avrà una profondità di tre millimetri. Quindi, questo darà una diversa profondità all'epera incisione, creando un effetto molto più gradevole. È possibile però decidere di dare la profondità dell'intero pezzo, in modo da creare anche un ritaglio. Infatti, dalla parte in alto, possiamo decidere il tipo di materiale, legno duro, legno morbido, MTF, eccetera, e gestire pure le dimensioni. Il pezzo che io andrò a lavorare, sarà un prezzo di irogo, da 120 mm per 40, profondo 12 mm. Vi conviene sempre mettere le misure esatte. Dopodiché, quando avete stabilito il tutto, dovete andare nella sezione carve. E si aprirà una finestra, che vi richiederà di misurare correttamente il pezzo. Va confermato. Dopodiché, dobbiamo assicurarci che il pezzo sia fissato correttamente. Lo conferma. Mi chiede anche la conferma del beat. Quindi l'inserto, la fresa che sto utilizzando. In questo caso, io darò ok, perché non ho la fresa che mi propone. Utilizzerò la fresa a coltello, che vi ho fatto vedere inizialmente. Ma questo non è un problema, perché ci permette comunque, di utilizzare anche frese diverse. Ovviamente poi, la CNC e il software, non sanno che stiamo utilizzando una fresa differente. Il risultato, su alcune parti, potrebbe essere diverso. Per esempio, su alcune parti, che formano degli angoli molto netti, con una fresa più grande. Ovviamente, gli angoli saranno un pochettino più arrotondati. Lo stesso per quanto riguarda le scritte. Se utilizziamo una fresa più grossa, rispetto a quella che abbiamo indicato, le scritte possono venire impastate, comunque rovinate, se si tratta di scritte piccole. Altrimenti, non ci sono problemi. Però, ovviamente, fate delle prove su dei pezzi di scarto, in modo da rendervi conto del risultato che otterrete. Lo stesso per quanto riguarda le frese coniche. Questo programma ci permette di utilizzare le frese coniche, però, purtroppo, solamente nella versione a pagamento. Infatti, la differenza tra la versione a pagamento e la versione gratuita, è la possibilità di inserire alcuni tipi di carattere, che in realtà non abbiamo nella versione gratuita, e di utilizzare le frese coniche, più qualche altra impostazione. Ma diciamo che per un utilizzo hobbistico, comunque, per studiare inizialmente il programma, e approcciare bene con la CNC, va benissimo anche la versione gratuita. Quindi, momentaneamente, confermo anche che il bit è corretto. Allora, come potete vedere, questa fresa, perfettamente cilindrica, ha un diametro costante, da un'estremità, fino a dove finisce la parte che ci consente di fare la fresatura. Invece, la fresa a coltello, parte da uno spessore, che sarà di circa mezzo millimetro, forse poco meno, perché è molto appuntita, e arriva a 3,2 mm. Ciò significa che, se noi dobbiamo fare una fresata molto profonda, con questa fresa, avremo sempre lo stesso diametro, con questa invece, andrà aumentando, man mano che aumenterà la profondità. Quindi, se dobbiamo fare delle scritte, molto piccole, come questa, rischiamo di creare questo problema. Questa è una fresatura, con una profondità di circa 2-3 mm, e come potete vedere, la scritta si è impastata parecchio, perché lo spessore maggiore, ad una certa profondità, crea questo problema. Quindi questa fresa va bene, per fresature grandi, oppure dove non ci sono molti dettagli. Dopodiché, mi dice di posizionare, la punta della fresa, nell'angolo frontale sinistro. Quindi, guardando il pezzo, noi dobbiamo posizionare la fresa, nell'angolo a sinistra, vicino a noi. Lo spessore che deve rimanere, tra la fresa e la superficie, deve essere quasi nulla. Semplicemente, deve permettere ad un foglio di carta, di passare con difficoltà. E la regolazione va fatta, agendo su questi tasti. Quindi, adesso, inquadro sia la CNC, che il monitor del computer, e vi faccio vedere, quello che vado facendo, per regolare il tutto. Allora, innanzitutto, dobbiamo mettere il nostro pezzo, sul piano di lavoro, sul piano martire. Ovviamente, il piano martire, dovrebbe essere, perfettamente allineato, alla base. Conviene sempre, utilizzare un riferimento, per posizionare il pezzo, in modo corretto. Conviene sempre, tracciare, una piccola linea. Dopodiché, posizionare il pezzo. Se abbiamo la possibilità, possiamo utilizzare una graffatrice, per fissarlo, oppure, come in questo caso, utilizzerò il nastro biadesivo. Ok. Una volta, quindi, fissato, sul piano martire, siamo pronti, per regolare il punto zero. Utilizzerò, un pezzettino di carta. Proposiziono, semplicemente, sulla superficie. Dopodiché, agendo, su questi comandi, sul monitor, dirò, alla presa, di spostarsi. Quindi, si sposterà, a sinistra, un millimetro per volta, se abbiamo impostato, uno. Altrimenti, possiamo spostarlo, anche, di 001, di un decimo, oppure, di 10 mm per volta. E poi, fare le regolazioni, di fino, agendo, sul numero uno. Vi consiglio, di evitare, di muovervi a step, di 10 mm, quando la presa è vicina, alla base. Altrimenti, se date il comando, rischiate di sprofondare. E se il pezzo martire, è sottile, rischiate di andare, a toccare, sulla superficie. Cosa che già mi è capitata. Quindi, imposto un millimetro, faccio scendere, l'asse Z. Posiziono, il pezzo di carta, finché si avvicina. Ok. Adesso, quasi tocca. Quindi, vado giù, di un decimo di millimetro. Ok. Già così va bene. Perfetto. Ora, posso dare, al computer, il comando, di usare, una nuova posizione, e non l'ultima posizione utilizzata. Ok. E mi chiede, di far sollevare il bit. Quindi, sollevare la fresatrice. Alza. Mi chiede, di avviare, la rotazione. La rotazione, è avvenuta. Quindi, do la conferma, che il mandrino, sta ruotando. Ok. Adesso, posso iniziare, il taglio. Inizia a lavorare, con uno stato superficiale, e poi, man mano, aumenta la sua profondità. Considerate, che è possibile, impostare tramite il software, la profondità, che deve avere, ad ogni step. Io ho impostato, una profondità di 0,8. Ovviamente, in base al tipo di materiale, la profondità, va regolata, sia per quanto riguarda, la profondità complessiva, che per quanto riguarda, la profondità, che deve avere, appunto, tra un passaggio, ed un altro. In base al tipo di software, che deciderete di utilizzare, è possibile vedere, anche sul monitor, il percorso, che farà la fresa. Quindi, avrete un'anticipazione, di pochi secondi, con una simulazione, del movimento. Ma come potete vedere, proprio durante la realizzazione, di questo cuoricino, l'angolo, non è venuto, esattamente appuntito. Proprio perché, la fresa conica, avendo questa forma particolare, non ci permette, di fare alcuni angoli. crea una svasatura, che va a eliminare, l'angolo, che dovrebbe esserci, utilizzando una fresa, perfettamente cilindrica. Tramite il software, invece, impostando una fresa conica, verrà calcolato, tutto il percorso, in modo adeguato. Ma come abbiamo detto, è una funzione a pagamento. quando impostate il punto zero, osservate attentamente, che la fresa vada, proprio nell'angolo, in basso a sinistra. Perché se, come in questo caso, siete un pochettino più dentro, ovviamente la fresatura, non vi verrà centrata, perfettamente, sul pezzo, che state lavorando. E allora ragazzi, questo è il risultato, che ho ottenuto, una targhetta per la stanza, dei miei figlioletti. Questa invece, è un'altra incisione, che ho ottenuto, sempre con le frese a coltello. Come potete vedere, ci sono alcuni errori, ma non dovuti solamente, alla fresa a coltello, ma al fatto che, il software, che permette di importare, i file jpg, a volte, crea dei piccoli difetti, proprio nella renderizzazione, del file. Quindi, alcune scritte, non vengono bene. Si crea questo problema. Inoltre, quando creiamo delle scritte, dobbiamo tenere conto, sia del tipo di font, utilizzato, che è del tipo di fresa, che andremo ad impostare. Infatti, quest'altra scritta, sempre con i nomi Alice e Andrea, come potete vedere, non è venuta bene, perché ho impostato, un tipo di fresa, che non andava bene, e il software, non ha calcolato, ovviamente, la possibilità, di realizzare le incisioni, quindi la fresa, non è andata in quel punto, perché questo tipo di incisione, non era realizzabile. In realtà, col tipo di fresa, che stavo utilizzando, era possibile realizzarla, ma per farvi l'esempio, comunque, ho realizzato pure, questa incisione, che non ho ripreso, perché già il video, sta durando tantissimo. Questo invece, è il problema, che si crea, con le scritte piccole, e una fresa conica, che va in profondità. Se vi interessa, posso fare un video, un pochettino più approfondito, anche se ancora, sono le prime armi, ma proprio, perché sono le prime armi, può essere utile, a chi è anche, alle prime armi, e ha riscontrato, queste difficoltà, quindi vuole capire bene, come fare eventuali impostazioni. Detto questo, io spero che questo video, sulla CNC, vi sia piaciuto, è solamente il primo, ho in mente di fare, tantissimi altri video, in cui, assieme faremo, dei progressi, che ci permetteranno, di ottenere, dei risultati, molto soddisfacenti, molto superiori, a questo, che già andava bene, se non fosse stato, per l'errore di calcolo, per il punto zero, e per la fresa, che essendo conica, in alcuni punti, ha fatto delle forme, che non dovevano essere, esattamente così. Il cuoricino, doveva essere, un pochettino più appuntito, e come vi ho detto, durante il video, la forma invece, è venuta un pochettino, più arrotondata, ma va bene così, per il tipo di oggetto che è. Se dobbiamo fare qualcosa, di un pochettino più importante, qualche errore, potrebbe andare, a inficiare completamente il lavoro. Detto questo, io vi ringrazio, di aver visto questo video, fino in fondo, vi invito a cliccare, sui link, che trovate in descrizione, vi invito anche, ad iscrivervi al mio canale, mettere in base al video, se vi è piaciuto, se vi è piaciuto, se vi è ritenuto utile, e ci vediamo, ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo, e a presto.